Chiude questa cerimonia l'Hitno a Castiglione-Rona. Abitanti della borgo nostro, e dei vicinori contati e borghi tutti, e foresti giunti da loci lontani, udite, 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 gli vestigli si spieghi, e nei nostri cori gioveno, profeti Castiglione, terra nostra, propone storia e tradizione. E il fuoco antico arde nei nostri cori, all'ombra delle forchi dell'antico castro. Pro ti, Castiglione, teste delle seculari tradizioni dei passi della nostra istoria. A ti, Castiglione, custode degli secoli remoti, et a voi, nobili conti de Castiglione, et all'excellentissimo e treverendissimo Pater in Cristo Domino, Dominus Brand de Castiglione, Cardinale in Piacentinum, dedichiamo l'Opaglio delle Castella. E in questo anno de grazia, du millesimo, vigesimo secondo, dello terzio millennio, dall'incarnazione di Domino nostro Gesù Cristo, non sia strada in dictodie che non esulti allegrezza, et focolare, ove il foco non arda gioioso. I secoli decorsi presenti sono, la petra vive, se apra in donca le porte, se destinino i vestigli, se dia piato alle tube. Castiglione, et li suoi rioni, celebra in codesto die lo splendore suo. E il supremo nostro Capitano, come il Magistrato, et come il Gran Cancellario, et lo Popolo, tutto de Castiglione, declarano, cum solemnitate et coran Popolo, lo principio dello Paglio delle Castella. Nello Borgonostro, et nelle nostre strade, descendano pro le aree tenzone, liabili bottai dei milioni, Careno, Centro Storico, Ciapa, Madonna in Campagna, Somadeo, Pilisela, Gornate, Falcetta, pro la conquista dello ambito palio, simbolo de forza e de maestria, nello modo che l'orione tutto dello vincitore, ne banti summa gloria, pro lo anno intero. Se canti en allegrezza et se balli, et gaudio sia la danza, sia in baluardo al tempo, le grosse mura del turrito Castro, et cum el tempo tutte core et dolo expella, onore, gloria et salute, a te, Brande de Castiglione, car de gloria et d'amor. Giubila, Castiglione, frotoi storia, arte e tradizione. Giubila, Castiglione, ora et sempre, bandite si allearmi in questi vie, et amicizie, regni sovrana. Sedia principio donca alla festa, et giunto el tempo ormai. In amicizia nasca, in amicizia muoia. Chiuso il cerimoniale, entriamo adesso nel vivo, nel cuore, nella nostra giornata e anche nella competizione. Esattamente perché tra pochi minuti, tra qualche minuto, daremo in via ai giochi e proprio oggi vedremo sfidarsi i fanciulli e i ragazzi del nostro borgo nella storica corsa dei cerchi. Una competizione molto importante, anche perché ricordiamo che l'ordine di arrivo della corsa dei cerchi determinerà l'ordine di partenza della corsa delle botti della prossima settimana. È ovvio che i bambini sentono questa grossa responsabilità perché negli allenamenti sentiamo il carico e la tensione. Li sentiamo già da qua, anche se noi non li possiamo vedere. La tensione è proprio quello che è il momento di gioia che loro hanno nell'approntare questa competizione, che per loro è una competizione vera e propria a tutti gli effetti. Per tanti è la prima competizione della loro vita. Altre attendevano questo momento ormai da tre anni. Sì, è vero. Quest'anno ci sono tantissimi bambini molto piccoli. Per cui vedremo questi cerchi immensi, spinti da questi piccoli bimbi, che sono un po' preoccupati. In Corpo del Doro se ne citavo un po', prima dell'inizio, un po' di grinta, un pochino di il solito entusiasmo che hanno e un bingo di un rione mi dice ma noi siamo tutti piccolini. Ma anche se sono piccoli ci ricaleranno sicuramente delle grandissime emozioni. Sì, perché hanno sempre una carica forse maggiore rispetto a quelli più grandicetti e la loro prima esperienza sentono questa responsabilità e per noi è sempre una gioia vederli entrare all'interno di questo viale. Anche perché li vediamo spesso passare da spingere i cerchi a diventare aiuti allenatori dei cerchi, allenatori dei cerchi e poi adesso li vediamo anche nelle file dei nostri grandi bottari. E allora, a proposito di viale, siamo quasi pronti, pronti per spostarci. Abbiamo l'ingresso del castello di Monteluzzo dove assisteremo dapprima ad una esibizione di quella che sarà la corse delle botti della prossima settimana. Sì, abbiamo l'esibizione delle allievi bottari che ormai mi viene da dire allievi proprio non lo sono più perché sono bottari a tutti gli effetti. Poi ci sarà una piccola dimostrazione dei vinti dei cerchi che per età non possono ancora garezzare ufficialmente ma che ci tenevano a far vedere la loro partecipazione e poi si aprirà effettivamente il primo gioco storico di questa nostra edizione è che pronti, pronti.